è tradizione ogni anno dopo le varie rappresentazioni sono fatto crescere la barba per sei mesi per partecipare ai vari presevi, rappresentazione storica e fatti personaggi mi lascio crescere la barba e poi me la taglio soltanto non so ma anche se mette non so non so non so ma anche se mette non so non so non so non so non so non so Grazie a tutti. 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 Robi? Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.